Allora, nuova categoria, si continua con la categoria 13-16 e la prima di questa categoria è Marta Ballina. Prima cantante in gara, ci canta una bellissima canzone ad agio di Lara Fabian. La sua frase Unicef è, sarebbe inutile ascoltare i problemi di questo mondo senza cambiare nulla. Quindi io inizierei con l'augurare a tutti i bambini disagiati la felicità che dovrebbe esserci nel loro cuori. Non so dove trovarti Non so dove cercarti Ma sento una voce che Nel vento parla di te Quest'anima senza cuore Aspetta a te Ad agio E le notti senza pelle I sogni senza stelle Immagini del tuo viso Che passano all'improvviso Mi fanno sperare ancora Che ti troverò Ad agio Chiudo gli occhi e vedo te Trovo il cammino che Mi porta via Dall'agonia Sento battere in me Sento battere in me Questa musica che Ho inventato per te E se sai dove Trovarmi E se sai dove Cercarmi Abbracciami con la mente Il sole mi sembra spento Accendi il tuo nome in cielo Dimmi che ci sei Quello che vorrei Vivere in te Il sole mi sembra spento No, 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 no Abbracciami con la mente Smarrita senza di te E dimmi chi sei E ci crederò E musica sei Adagio Grazie Marta Niente da aggiungere Si chiama Marta come me, scusami Niente da aggiungere direi Non so se la giuria voglia Famiglia Palmacci Che padre e figlio li vedo molto assorti nei loro pensieri Secondo voi c'è qualche voce che si avvina di più a degli strumenti e qualcuna un po' meno? Non lo so, ma è venuta così sentendo l'ultima ugula Eccolo qua Voglio dire una cosa Adesso Queste ragazze che cantano Con questa voce Fra 4 e 5 anni non c'hanno più questa voce qui E' tutto cambiato Per una cosa devo dire che Vanno bene con la quadratura Vanno a tempo Questo è importante Che poi la voce sia giusta man mano E poi con l'insegnante che le porta avanti fa tutto bene Va bene? Perfetto Grazie Spero che sia È bello pure che loro ascoltano con ansia i commenti È anche giusto È giusto È vero, è vero Ce ne siamo accorti